Un lampo e poi subito il tuono tremendo, è come un'esplosione, come una bomba, rovi da matto. Oggi a matto non si parlava d'altro, ovvero del fulmine che ieri mattina alle 9.45 si è abbattuto sul campanile della chiesa di Santa Maria, un pregevole complesso di origini medievali nel cuore del borgo valtellinese. Una fucilata, una frustata secca e potente che quasi come un'esplosione ha disgregato parte della muratura e delle pietre scagliandole a diversi metri come proiettili, finiti sulla casa di fronte ma anche sulle auto parcheggiate nella piazzetta sottostante. Si è reso conto di cosa stava accadendo? Al momento no, sono andato qui in dopo. Quando sono andato sul tetto, quando ho vede, non mi ero accorto che era venuto giù qui. Non vi eravate accorti subito che era stato lesionato il campanile? No, perché eravamo lì sotto la tettoia, non l'abbiamo visto dove era. L'ho provato una signora lì che gli aveva spaccato il cernario, dei sassi lì sul tetto e lì è stata la storia. Siamo andati bene che non passava nessuno e non è successo niente di grave diciamo. Nell'immediato abbiamo verificato la situazione, abbiamo chiamato i vigili del fuoco con l'autoscala per salire a verificare lo stato di fatto. Abbiamo appunto chiuso subito la via Venosta al traffico e alle persone. Sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso e al momento appunto la strada, la via Venosta rimane chiusa in attesa di una verifica di un tecnico, di un ingegnere, una verifica strutturale che verifichi appunto le condizioni di sicurezza del campanile e della chiesa. L'interno della chiesa oggi regolarmente aperta per la funzione del mattino non avrebbe subito danni strutturali a parte quelli causati agli impianti elettrici. Stamattina il sindaco, il parroco Don Gianluca dei Case e il tecnico incaricato dalla parrocchia Ingegner Clotildo Parigi sono saliti sul campanile per un sopralluogo. Verifichiamo l'entità dei danni e poi con calma interverremo sulla struttura, sugli impianti e su quello che è stato un po' danneggiato diciamo. Un grande spavento? Ma un grande spavento sì, però ecco la fede è forte quindi non ci spaventa tutto questo. E soprattutto non bisogna vedere in questi segni che arrivano dall'alto qualche avvertimento, ecco sono cose che succedono, quindi nessun avvertimento dall'alto.